La grigliata gira attorno a una figura che secondo me dovrebbe stare rinchiusa in un penitenziario, che è quella del fochista. Lo riconoscete perché non si capisce perché, ma il re della griglia nei gruppi di amici lo riconoscete, è quello con la faccia da schiaffi e il grembiule con scritto Kiss the Chef. In alternativa un altro grembiule gertonatissimo tra i fochisti è quello col busto di Michelangelo, però col cazzo grosso, perché il fochista è pure permaloso, capito? Quindi va bene scherzare su certe cose ma su quello no, cioè mica è l'olocausto che ci puoi fare la satira sopra. Je suis charlie ma fino a un certo punto, capito? Io mi sono chiesto ma come cazzo si diventa fochisti? C'è un corso su Norum, c'è un concorso pubblico? No, la risposta è molto semplice, fochista slash re della griglia si diventa attraverso una serie di traumi. I traumi sostanzialmente ti riducono così, perché chi è il fochista? Il fochista è uno che il papà lo abbracciava troppo poco da piccolo, o lo zio lo abbracciava troppo, ci siamo capiti?